Il comitato di frazione San Nicolò Attordino ha votato all'unanimità la sperimentazione del progetto pulizia. Di che si tratta? Si tratta della divisione della frazione in quattro parti, quattro zone da andare a pulire una per settimana. Invece di arronzare una pulizia unica su San Nicolò solo il martedì, si pensa di migliorare la questione della pulizia dividendola in quattro zone da fare, quindi una per settimana, con una pulizia più approfondita, dei tombini, delle caditoie, un piccolo sfalcio dell'erba e quello che riesce a fare la terramambiente. Quando partirà questa sperimentazione? La sperimentazione ci siamo accordati per farla partire la settimana prossima, metteranno della segnaletica che indicherà le zone. Adesso stiamo valutando, qui ho le quattro zone, stiamo valutando qual è la migliore con la quale partire, in modo da trovare una quadra. Avete chiesto al comune che la TEAM ripristini il servizio di distribuzione di buste e mastelli. Sì, è una cosa che in una frazione come San Nicolò, con 8.000 persone, dove prima c'erano diversi servizi, c'era proprio qui dove abbiamo la sede, c'era l'ufficio anagrafe, c'era un consultorio e c'era anche l'ufficio della TEAM. Ci sono tante persone anziane che magari non possono andare a terra ma hanno difficoltà, quindi anche a cadenza mensile riportare un servizio del genere può essere solo una bella cosa. E viste le poche risorse a disposizione del comune di Terra, avete fatto un'altra richiesta alla TEAM, ovvero di occuparsi anche del verde pubblico nella frazione. Sì, questa è un'altra cosa che prima si faceva. Sappiamo che il comune sta in difficoltà, in carenza di personale, carenza di diverse crisi e la TEAM Ambiente potrebbe trovare con il comune un accordo per ristabilire questo servizio che è fondamentale per i parchi che comunque non sono tanti, sono poche centinaia di metri e andrebbero a donare un decoro ulteriore.